E così Umberto Eco ci ha informato che i social network sono affollati da legioni di imbecilli. Per bacco, ma che bella scoperta ha fatto Umberto Eco, perché nella vita quotidiana lui non è circondato da legioni di imbecilli, oppure nei cosiddetti salotti letterari, oppure nelle riunioni intellettuali che ci possono essere qua e là, anche a livello universitario, non ci sono anche lì delle legioni di imbecilli. E quindi, caro Umberto Eco, si renda conto che ormai il re è nudo ed allora lei, che certamente imbecille non è, lei che certamente possiede la verità assoluta, è al di sopra di qualsiasi parte, proprio essendo al di sopra di qualsiasi parte, e avrà anche tutta la forza intellettuale, tutta l'intelligenza per dimostrare che lei non fa parte di questa legione di imbecilli e la quale ha il coraggio quotidianamente di dire la sua, giusta o sbagliata che sia. Bisogna vedere se c'è intorno qualcun altro che riesce a confutare o meno le imbecillità della legione degli imbecilli. Lei ci riesce?